Lei venne in un periodo della mia vita in cui avevo più forte che mai la sensazione del trascorrere degli anni e desideravo riassaporarli, risentirli e risentirmi giovane. Quando fecero il suo nome, sbirciai dalla mia scrivania all'arrivo in ufficio di questo piccolo uomo. Me lo immaginavo più alto. Eppure in quegli occhi nocciola tutte ciglia c'era qualcosa. Una promessa o un segreto? Da lontano tutto ti sembra irraggiungibile, ma se ti incammini vedi che la strada non è così difficile e quelli che da lontano ti sembravano giganti sono altro che persone come te. Dalla panchina sulla collina avevo la sensazione di dominare Douglas e quindi tutta la sua isola. Quante baie avevo visto in tutta la mia vita? Tante. E allora? Forse mi merito di non avere mia moglie con me oggi per questo? Ci si poteva perdere e vivere per sempre in quest'isola. Anche oltre la vita. Rimanervi allacciati. Domizia, e poi non hai pensato che lì ci sarò anch'io? Non devi aver paura di niente e nessuno. Sembrava molto più piccola della sua età e così spaurita che l'abbracciai per incoraggiare. Non sei solo. Io ci sono e ci sarò sempre per te. Dovunque. Comunque. Grazie. 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 Grazie.